Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz, ben ritrovati a una nuova puntata di Turbo Daily, ieri come avete potuto notare ci sono stati dei ribassi piuttosto forti e questi sono dovuti principalmente alle voci che arrivano dalla Cina con riferimento all'azienda che si occupa diciamo di mercato immobiliare ed è decisamente un colosso e la sua sovraesposizione al debito. Ora in una situazione in questo tipo molti pensano a un effetto domino che potrebbe non fermarsi alla Cina stessa ma andare anche a colpire altri paesi ebbene in uno scenario di questo tipo ovviamente le borse vedono incertezza e tendono ad essere vendute quindi mercati finanziari che scendono e opportunità che si creano perché grazie ai certificati a leva, grazie ai Turbo possiamo andare a sfruttare proprio i movimenti di mercato nel momento in cui si vengono a verificare. Andiamo quindi subito su quello che è il grafico del Fuzzimib che è l'indice che ho selezionato per voi sostanzialmente in questo momento cosa sta succedendo? Abbiamo avuto questo rialzo molto forte, siamo arrivati a 26.000 rotti punti quindi rompendo quella soglia psicologica di 26.000 che per tanti anni è stato proprio lo spartiacque e diciamo il livello che difficilmente veniva superato, poi abbiamo avuto però un movimento al ribasso questo è durato qualche settimana per poi concretizzarsi ieri con un diciamo una candela rossa piuttosto importante. Oggi vediamo dei segni di rimbalzo e la nostra strategia è molto semplice sostanzialmente ci troviamo in un trend ribassista di breve, cercheremo di andare a vendere al termine di quello che è il rimbalzo che potrebbe esserci, normalmente quando c'è una candela così forte viene riassorbita in qualche giorno e poi spesso ce n'è un'altra ribassista ancora più pronunciata che poi va a rompere di fatto i minimi segnati dalla candela precedente, quindi strategia molto semplice, trend di breve e short, mi metto in un'area di resistenza per vendere nuovamente l'indice italiano. Lo stop loss lo mettiamo sopra i massimi indicati precedentemente per quanto riguarda il target lo andiamo a mettere, pensiamo sotto i minimi della giornata di ieri. A questo punto io direi di andare subito sul sito di investimenti.bnpparibas.it per andare a vedere come impostare questo tipo di strategia, clicchiamo su certificati a leva, quindi Turbo Certificate e andiamo nella sezione dedicata, possiamo scegliere appunto Fuzzmib che è l'indice di riferimento di piazza affari, abbiamo 10.000 declinazioni, in realtà ne abbiamo 93 ma sono appunto tantissime, quindi possiamo scegliere tra prodotti long, prodotti short, prodotti con scadenza, prodotti senza scadenza. Io nello specifico ho guardato il livello di leva che era poi la cosa che mi interessava di più e sono andato sull'NL, BNP, IT14 e D0 perché mi dava una leva sostanzialmente di circa 10 volte sul prodotto. Ovviamente ognuno può andare a scegliere il prodotto che preferisce e pesarlo sulla base delle proprie esigenze, della propria voglia diciamo di prendere esposizione. A questo punto andiamo subito sulla piattaforma di trading dove io già ho selezionato appunto il certificato, il prezzo corretto per entrare ai livelli che abbiamo visto sul grafico è di circa 21 centesimi per singolo certificato, ne andremo a comprare 4.900, questo vuol dire esporsi per un controvalore indicativo di 1.000 euro sul certificato e quindi con una leva 10, 10.000 euro sul sottostante. Andiamo a cliccare sul tasto BUY per inserire il nostro ordine all'interno del book di negoziazione, come vedete siamo già all'interno e attendiamo di essere eseguiti, ovviamente questo ordine passerà solo e soltanto nel caso in cui ci dovesse essere un ulteriore rialzo dell'indice di piazza affari durante la giornata odierna. A questo punto io direi di andare a fare un recap di quello che è il trade anche grazie ai livelli operativi, inseriremo l'ordine quindi a 25.530 punti per quanto riguarda l'ingresso, lo stop loss lo mettiamo a 26.150 punti, per quanto riguarda invece il nostro target price cerchiamo di essere abbastanza ampi come movimento e andremo a chiudere la posizione a 24.820 punti. Ora da ultimo vi segnalo che questa sera alle 5 e mezza ci sarà la consueta puntata di House of Trading nella quale parteciperò anch'io e quindi vi esorto a segnarvi e a diciamo attivare la campanella sul canale YouTube di investimenti vnpparibas.it. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto, io come sempre vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime puntate. Grazie a tutti.